salve ragazzi e ben ritrovati in una nuova puntata di stranger cars spero tutto bene oggi parliamo di auto che come al solito non abbiamo mai avuto il piacere di vedere su strada perlomeno una due volte forse per uno shooting ufficiale e si tratta di come avrete ben intuito familiari che secondo me avrebbero saputo dire loro anzi soprattutto avrebbero magari aiutato il papà ad insegnare la buona educazione ai propri figli qualora questi fossero stati un po disobbedienti detto questo non perdiamo altro tempo e iniziamo con la raccolta come si fa a diventare i migliori amici di un appassionato bmw semplicissimo basta dirvi che la vostra sportiva preferita è la m3 e 46 ma state tranquilli perché secondo me non direste neanche una bugia poi magari un giorno avendo la possibilità di provarla vi accorgereste di quanto questa sia davvero forse una delle sportive più viscerali più pure tra virgolette forse sicuramente una delle più autentiche mai concepite dalla casa di monaco ovviamente sto parlando della storia più medio recente mettiamola così perché vi parlo di lei tutti la conoscete come coupé ebbene dovete sapere che un solo esemplare una volta ha anche vestito i panni della variante touring era un momento abbastanza di fermento per il mercato di queste sportive e bmw stava pensando di lanciarsi contro la rs4 che in quel momento era un po la regina per quanto riguarda questo genere di vetture prestazionali ma ovviamente la rs4 era già famosa famosissima soprattutto per la variante con la carrozzeria station wagon al che bmw decise di gettarsi in questo progetto prese le stesse componenti per quanto riguarda il motore per cui il 3200 6 cilindri in linea aspirato 343 cavalli 365 newton per metro di coppia cambio manuale a 6 marce anche per questa versione e ovviamente trazione posteriore i vantaggi forse sarebbero stati sarebbero sicuramente stati quelli di avere più spazio per i passeggeri posteriori ovviamente anche la possibilità di farli accomodare in maniera molto più semplice viste le due porte in più ma anche avere la possibilità di offrire molto più spazio per i bagagli ve lo ricordo l'audi stava appunto avendo questo grandissimo successo ma insieme anche alla mercedes classici in variante wagon sto parlando della amg proprio per il fatto che potevano si trattava di vetture che potevano essere usati tutti i giorni per andare a lavoro e poi ovviamente costi di gestione permettendo poterci fare anche il viaggetto nel weekend ma comunque si trattava di familiari fatte e finite per cui un solo esemplare tra l'altro con una qualità speculare all'auto di produzione che però non è stato mai non ha mai visto la linea di produzione questo secondo me è un vero peccato c'è anche chi ritiene che a fronte ovviamente di un aumento del peso di un innalzamento del baricentro il passo più lungo potesse conferire delle doti dinamiche davvero molto interessanti a questa m3 in variante touring si chiama m3 touring concept ma purtroppo questo non lo sapremo mai perché non ci sono nemmeno prove riguardo a questa macchina forse questo è davvero un peccato non averla mai vista su strada fatemi sapere che ne pensate ditemelo anche voi qui nei commenti se questa macchina in qualche modo vi stuzzichi possiamo dire o se rimarreste fedeli alla variante coupé forse stavolta sono stato un po troppo esagerato non lo so sono andato fuori programma fuori tema forse ma volevo parlarvi di questo che a tutti gli effetti è un prototipo soprattutto per fare un ragionamento insieme dopo ci arriviamo intanto sicuramente avrete già riconosciuto le linee di una famosissima berlina italiana ovvero la maserati quattro porte che ha prestato appunto la meccanica per dare vita a questo diciamo più che prototipo studio di design su quattro ruote completamente funzionante prodotto in cinque esemplari ma non dalla casa modenese nemmeno da un costruttore ad essa strettamente collegato come potrebbe essere una amg per mercedes per fare un esempio preciso ma bensì da un carrozziere sempre italiano molto famoso sto parlando di touring super leggera che ha reinterpretato le linee della maserati quattro porte in chiave lo vedete fastback per cui diciamo che l'auto rimane praticamente uguale fino a qui e poi troviamo queste linee che la differenziano da quella con la coda un pochino più filante base meccanica inalterata per cui quel celestiale 4200 v8 aspirato da 400 cavalli e in questo caso si passava da 0 a 100 in 5,2 secondi e si arrivava fino a 275 chilometri orari di velocità massima che tutto sommato non è affatto male sono stati prodotti come vi dicevo cinque esemplari e il prezzo all'incirca non si è mai ben saputo con precisione ma all'incirca la cifra intorno alle 200 mila euro di recente ne è stata venduta una per 165 mila con qualche chilometro sulle spalle quindi ci sta che il valore sia un po sceso venivo volevo parlare però proprio per fare un piccolo ragionamento a livello forse di mercato e vorrei prendere in considerazione quanto è successo per porsche con la panamera lo sappiamo all'incirca due anni e mezzo fa è arrivata la versione sport turismo io ho avuto l'occasione di guidarla mi ricordo che c'era tanto scetticismo durante la presentazione da parte dei colleghi ma in generale anche da parte degli appassionati ebbene pochissimi mesi dopo i numeri avrebbero dimostrato che porsche non solo poteva tranquillamente giustificare la produzione di un'altra variante a livello di carrozzeria del resto la linea di montaggio rimane la stessa ma riusciva anche a essere profittevole con un'auto che fondamentalmente non faceva altro che diciamo allungare un po di più la coda e offrire certamente anche più spazio per i passeggeri posteriori ma soprattutto per i bagagli per cui dico questo pensando al fatto che forse un pochino più di linfa al modello quattro porte avrebbe potuto essere stata data proprio grazie alla variante chiamiamola fastback in questo caso ma appunto qualcosa di diverso dalla berlina visto che poi nel corso degli anni ha sofferto parecchio direi l'arrivo di competitor come audi rs7 classe e amg la stessa panamera e questo ovviamente da italiani fa un po male vediamo eventualmente se nella prossima mandata diciamo così avremo anche una differenziazione in questi termini voi però intanto siete d'accordo con questo rallinamento eventualmente ditemelo qui sotto nei commenti vorrei concludere la raccolta di oggi appunto con questo prototipo barra concept una sorta di ibrido perché comunque si parla di una base meccanica completamente funzionante ma di un progetto che avremmo visto soltanto nel 2009 in altre vesti quindi lo considero un po come un mai nato veramente contestualizziamo però la vicenda siamo nel 1988 Porsche sta vendendo la sua sportiva più iconica la 911 e la 928 che nonostante tutto è riuscita a conquistare critica e pubblico Porsche però vede che quei cattivoni di bmw di mercedes e di audi con il loro berlinone stanno conquistandosi tutte le altre fette di mercato e allora decide di andare a rompere le uova nel paniere ai competitor sfornando anzi chiedendo a due centri stile il proprio interno e quello di ital design di sfornare due proposte per una berlina sportiva che potesse competere con le altre già presenti sul mercato arrivarono due proposte la 932 e la 989 la consegna era che quest'altro dovesse essere quanto più vicino possibile agli stilemi della 911 e in questo senso forse i designer del centro stile Porsche furono avvantaggiati perché la loro proposta era sicuramente molto più convincente della 932 di ital design che effettivamente aveva poco a che fare con qualcosa qualunziasi cosa che somigliasse ad una 911 dimensioni importanti anzi impegnative 5 metri di lunghezza col motore v8 anteriore preso dalla 928 350 cavalli per 280 chilometri orari di velocità massima con degli accessori molto interessanti dal punto di vista tecnico come ad esempio i dischi in carboceramica ma anche il cambio a doppio frizioni che al tempo Porsche prendeva direttamente dalle corse a questo punto la strada ormai sembrava fatta ma purtroppo il destino ci si mise di mezzo e visto che quest'auto era stata concepita principalmente per il mercato americano in quel momento il cambio tra marco tedesco e dollaro usa non era così più conveniente tanto che i vertici decisero visti i numeri erano state previste all'incirca 150 mila vetture all'anno per un prezzo in america di 90 mila dollari queste erano cifre pressoché irraggiungibili secondo i vertici che appunto decisero di mettere il progetto nell'angolo non fu tutta fatica sprecata però perché proprio dalla 989 arrivò l'ispirazione per due serie molto importanti di Porsche ovvero la 993 e la 996 ma soprattutto secondo me questa è l'auto che ha tenuto accesa nel corso degli anni la voglia di creare qualcosa di questo tipo e il risultato è arrivato nel 2009 con la Panamera da lì i numeri parlano per lei un grande successo lo sappiamo tutti è stato però un peccato non vedere qualcosa di tanto all'avanguardia per il suo periodo su strada in quegli anni ovvero fine anni 80 inizio anni 90 aveva immaginato una berlina di 5 metri con trazione posteriore 350 cavalli alle rotonde vabbè questi sono altri discorsi fatemi ovviamente sapere se anche lei vi sia piaciuto o meno ditemi se vi vengono in mente qualche altre vetture sempre del genere familiare da inserire eventualmente in un prossimo video fatemi sapere se il video vi è piaciuto o meno qui sotto nei commenti mi raccomando poi iscrivetevi al canale attivate la campanellina delle notifiche noi invece ci vediamo nel prossimo video un saluto ciao ciao